Il Signore non promette cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta magica, ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore, chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per poi portare frutto. E sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina al risveglio possiamo dire, oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me. Bella preghiera che è una realtà. La benedizione biblica continua così, il Signore ti concede pace. Oggi celebriamo la giornata mondiale della pace, il cui tema è «Vinci l'indifferenza e conquista la pace». La pace che Dio Padre desidera seminare nel mondo deve essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche conquistata. Ciò comporta una vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro cuore. Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l'indifferenza che fa pensare solo a se stessi e crea barrieri, sospetti, paure e chiusure. E queste cose sono nemiche della pace.